Allora, il video cerco di essere veloce perché questo film per me è stato una merda, allora passerò da una parte in cui, questa prima parte, in cui non farò nessuno spoiler e dirò semplicemente cosa penso del film e poi farò qualche spoiler di cosa non mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto, poche cose mi sono piaciute di sto film. Allora, partiamo dal fatto che Deadpool a me come personaggio di base non piace, ma perché non piace? Non mi piace il suo umorismo, è un umorismo per me stupido, molto stupido perché fa le solite cose, rompe la quarta parete, parla di cose a caso, volgari e ogni due o tre fa battutine che sinceramente non mi fanno ridere, non fanno ridere. E' semplicemente un personaggio forzato, per me è molto forzato, che non ha, semplicemente non fa ridere, basta, non è divertente, non è un personaggio che a me fa impazzire, già, infatti io quando ho visto gli altri due di Deadpool non ho riso una volta perché non mi fa ridere la sua comicità, una comicità di tipo infantile, ma utilizzando delle battute volgari, quindi non ha molto, per me non ha molto senso, anche sto fatto che abbatte la quarta parete che... A volte dicono, wow, che figata, il cinema, no, per me è una cagata, anche questa, una delle cose che secondo me mi fa semplicemente cagare. E passiamo invece poi al resto del film, il film dove c'è un Wolverine, un povero Wolverine invecchiato, che è un Wolverine che non è della linea temporale di Logan, Dan Wolverine che è invecchiato, che magari poteva essere interessante, ma non ci viene spiegato bene perché il film è pieno di fottute gag di merda, dove Deadpool fa il coglione, dove Deadpool cita la cocaina, per dire un'altra cosa, senza spoilerare troppo, perché così può dire, dove Deadpool non mi piace, semplicemente, non mi piace il suo umorismo, poi chiaramente c'erano anche i bambini in sala, Deadpool, insomma, l'MCU non c'entra proprio nulla, questo film dell'MCU, infatti, diciamo, ci sono riferimenti all'MCU, però fa, fa il quanto schifo inserire un personaggio come Deadpool all'MCU, che poteva funzionare in un contesto in cui era completamente solo, magari facevi un film dove Wolverine e Deadpool si incontravano, erano nello stesso universo, si incontravano, e facevano un'avventura insieme, un'avventura dove c'era un nemico, perché poi dopo parliamo anche del nemico, un nemico che è alla loro portata, che utilizza attacchi fisici e non questo nemico qui, di cui ne parleremo adesso. E, in sostanza, cos'è che questo film ha di buono? Questo film ha di buono la scena iniziale, soprattutto, la scena di combattimento iniziale, molto interessante, che mi ha fatto dire, wow, perché è anche più violente delle altre, ovviamente Deadpool è l'unica cosa positiva, è che è un po' più violento degli altri supereroi, però è una scena dove c'era comunque del sangue, dove c'era comunque combattimento, ma non era eccessiva, secondo me, ed era ben coreografata, l'unica scena che ho detto, bella, bella, bella. Ero entusiasta, poi dopo, chiaramente, quando il film va avanti, vedo che è una merda totale, perché adesso passo alla parte spoiler, quindi qualche secondo prima che chiudete il video, chi non ha visto il film perché è uscito ieri, Ok, parte spoiler, diciamo che c'è il suo Deadpool, Wade Wilson, che si fa i cazzi suoi, è una festa, tipo il suo compleanno, con l'ex moglie, che poi, non lo so, ha fatto tipo un colloquio con gli Avengers, vieni chiamato dalla TVA, insomma, TVA vuole distruggiamo l'universo, vieni con noi, devi andare a portarci un Wolverine, non si sa bene perché, o ci porti Wolverine, ti mettiamo in un altro universo, ti distruggiamo questo universo, niente, non lo so, non ho capito, il suo tizio della TVA che parla tutto strano, questo coglione che si comporta come un bambino di 5 anni, del tizio della TVA che diceva di prendere Wolverine, questo Deadpool va a cercare Wolverine nelle linee temporali, trova un Wolverine fallito, vecchio, ubriacone, da una linea temporale, lo porta lì, e, vabbè, poi va a far pugni con questo tizio della TVA, poi il tizio della TVA decide, cioè, questa trama proprio brutta di merda, schifosa, il tizio della TVA poi decide di prendere quel famoso bastone che si vede in Loki, che elimina le persone, no, che le spedisce, diciamo, a non esistere più, perché effettivamente non esistono più le cose, solamente che noi scopriamo che le cose non è che non esistono più, che si, 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 una solita, un nuovo retcon, retcon, non so come si dice, per cui queste persone, per creare poi il film, perché sennò il film senza questo retcon non sarebbe esistito, perché Deadpool e Wolverine semplicemente sarebbero esistiti, sarebbero, diciamo, scomparsi e basta, vengono messi in questo, in questo ambiente, tipo la Mad Max, dove c'è comunque la citazione a Mad Max, perché questo film è pieno di citazioni, perché fa figo, questo tipo, questa ambientazione di Mad Max, dove c'è, c'è l'anterna, non so, fiaccola, quello lì, insomma, di fuoco, dei Fantastici Quattro, che viene interpretato da Chris Evans, Chris Evans particolarmente è volgare in questo film, che ovviamente, vabbè, è cazzi sua, e gli fanno anche dire delle cose che sinceramente vanno anche oltre alla volgarità, sinceramente non è di cattivo gusto, non mi piace perché l'MCU, vi spiego, questo film dovrebbe essere un film dell'MCU, l'MCU non è mai stato un film, cioè non ha mai fatto film volgari, erano film PG-13, per, diciamo, i minori, cioè i maggiori di 13 anni, che poi cosa non era vera, perché è un film massimo, maggiori di 7 anni proprio, film dove massimo 2-3 parolacce, c'era un pochettino giusto di sangue, quindi inserire un personaggio come Deadpool all'interno del MCU, perché è un film, non prendiamoci in giro, questo è un film dell'MCU, si collega all'MCU, si collega all'Oki, quindi non prendiamoci in giro, inserire un personaggio come lui, come Deadpool, all'interno di questo universo non ha alcun senso, perché voi immaginate un'interazione tra Deadpool e, per esempio, Miss Marvel? Cioè, no, non ha senso. E quindi, comunque, che stavo dicendo? Queste battute, vabbè, comunque arrivano in questo universo, questo universo dove c'è questo deserto, incontrano sta Cassandra, Cassandra, questa tizia che è la sorella del professore Xavier, di X-Men, e niente, fanno a botte con questa, poi vengono spediti in una campagna, Deadpool e Wolverine, non si capisce dove cazzo vanno, perché il film è tutto così, non ha senso nulla, in questa campagna vengono spediti, dopo che c'è questo tornado, che pare che è un mostro, che si trova pure in Loki, questo tornado, vengono poi a combattersi in questa macchina, arrivano poi con questa macchina, che è una macchina di merda, non so che macchina, è una Hyundai proprio, che viene detto da Deadpool, vengono portati in questa caverna, caverna dove ci sono vari cameo, come Electra, per esempio, Electra del film, Electra che è un film di merda, appunto, perché qua ci sono venuti a fine tutti i rifiuti della Fox, infatti c'è pure il logo della Fox, Electra che è una merda di film, della Gardner, non mi ricordo il nome, però si chiama Gardner l'attrice, poi c'è Blade, poi c'è un tizio che lancia delle carte esplosive, X-23 che si ricorda, non so perché, ma si ricorda di Wolverine, parla con Wolverine però, questa cosa di Wolverine, che è un bel personaggio, un personaggio interessante, serio, che purtroppo viene distrutto da una sceneggiatura schifosa, e da un Deadpool che decide di fare troppo il Deadpool, perché mi sarei aspettato qualcosa di un pochettino più serio, però se tu vuoi inserire un personaggio come Deadpool, sbagli sempre per me, sbagli sempre, se vuoi inserire un personaggio in un MCU come Deadpool, sbagli sempre, perché se me lo fai bambinesco, nel senso che non dice parolacce, non dice niente, sbagli, sbagli, ma se me lo fai troppo volgare, e me lo fai in questo modo, sbagli lo stesso, perché da una parte sbagli, perché snaturi il personaggio di Deadpool, dall'altra parte sbagli, perché snaturi l'MCU, perché l'MCU è fatto in un certo modo, questo è il mio ragionamento, se vuoi fare le cose tutte collegate, devono avere tutto più o meno lo stesso tono, gli altri film hanno più o meno lo stesso tono, perché ci sono poche parolacce, ci sono poca vulgarità, poca violenza in realtà, solo qualche film un po' più violento, ma neanche tanto eh, quindi vabbè, tutti in linea, l'unico film che non è in linea, è questo qua di Deadpool, che non c'entra nulla con l'MCU, facevi un Deadpool 3, ripeto, con Wolverine, a stand alone, erano tutti contenti, magari qualche cameo lo mettevi, però capito, però comunque sta sta Cassandra, che vabbè, poi a un certo punto vanno da sta Cassandra, la sconfiggono, cercano di sconfiggere, c'è uno scontro che è inutile, perché questa poca sta Cassandra che fa, pia le mani, con le mani ti sbatte a destra a manga, con la telepatia, cioè non ho capito bene come funziona il suo potere, però è un potere potentissimo, Wolverine e Deadpool non possono farci niente con questo potere, perché è un potere troppo forte, cioè loro al massimo combattono con la spada, con il pugno, con l'artiglio, però c'è che succede che questa Cassandra per qualche motivo, con l'anello di Doctor Strange, che aveva rubato a Doctor Strange del, non lo so, vabbè, si cazzo, entra una strontante, una cacata, non viene spiegato nulla, apre sto portale, entra nel loro mondo dove sta la TVA, e poi Cassandra pure si presenta alla TVA così, a caso, cioè giusto per dire, vabbè, sapete già come va a parlare il film, c'è lo scontro con tutti i Deadpool, che non ha senso di esistere, Deadpool bambini, Deadpool vecchi, Deadpool donna, sono tutti questi Deadpool a caso, che a me ha fatto cagare, perché un'altra cosa è il fanservice, che a me sinceramente il fanservice fa cagare, poi c'è il Deadpool con i capelli lunghi, che è un coglione, con gli orecchini, con sto cane, c'è per esempio sta clip un po' del cane che ritorna, che fa schifo, e poi praticamente Deadpool e Wolverine decidono di, a un certo punto, si ferma lo scontro, perché non mi riuscite, non so come dire, però si ferma lo scontro, c'è un tizio, vabbè, stupido, che ferma lo scontro di quell'universo, e praticamente, niente, arrivano dalla TVA, il tizio della TVA, quello lì che si è fracassato di botta all'inizio del film, praticamente, da Deadpool, quello lì che gli ha spediti in quella, in quella dimensione, là, dice, dovete fare questo, questo e questo, per fermare Cassandra, che sta distruggendo tutti gli universi, perché questa Cassandra, vabbè, è potentissima, distruggere tutti gli universi, senza motivo, un personaggio pure lì sprecato, ovviamente questi Deadpool e Wolverine si mettono insieme, utilizzano le loro mani per questi macchinari, che si, vabbè, una a destra e una a sinistra, servono due persone, perché sono molto distanti, dice che questo macchinario, ucciderà tutte e due le persone, no? Ma loro sono immortali, perché hanno il fattore regenerativo, quindi non muoiono, anche se fermano questa Cassandra, questa Cassandra, vabbè, muore, penso, e fine del film, un delirio, non si capisce niente, dall'inizio alla fine, io, per raccontare questa trama, quel che ho capito, ho fatto veramente tanta fatica, perché la, la comicità, era forte, ma non faceva ridere, era dissonante, i personaggi interessanti, come Wolverine, poteva essere al minimo approfondito, non vengono trattati, la, il film è veramente, non scorre lento, non è noioso, però è stupido, da vedere, io le cose stupide non me le bevo a un certo punto, e, non aveva senso di esistere, non lo so, veramente, per me è un voto, un 4 su 10, ed è pure tanto, solo perché mi è piaciuto qualche sequenza, perché non mi ha annoiato troppo, però, per il resto, questo è quello che penso, ci ricciamo.